Dalla trasferta di oggi proviamo a casa un punto, non siamo assolutamente contente, io in primis, perché la prestazione non è all'altezza della squadra che siamo, però è un risultato che è amaro perché comunque volevamo i tre punti per riuscire a mantenere la testa della classifica. Tanti complimenti a Ravenna perché hanno dimostrato con voglia e con grinta che potevano raggiungere il pareggio e tante volte ci hanno messo in difficoltà. Dobbiamo farci un po' tutti un esame di coscienza, pensare a questa partita come un punto di ripartenza, lavorare sugli errori e martedì ripartire con più fame e più voglia per dimostrare che siamo il Napoli e vogliamo essere protagonisti.